Ciao ragazzi, ciao ragazzi, allora ho un po' paura di filmare questo video perché non è un video come gli altri in questo video assaggeremo assieme, cioè io farò da cavia per voi praticamente ringraziatemi perché immagino ne vedremo delle belle, non sono esattamente cose invitanti però assaggerò snack asiatici per la maggior parte poi ce n'è uno anche in arrivo dagli Stati Uniti che è assurdo sono tutte cose assurde con gusti allucinanti con i setti all'interno cioè adesso vedrete, comunque mi è arrivata questa idea quando ero in Giappone perché vedevo un sacco di caramelle, roba strana, con gusti strani e ho pensato cavolo però sarebbe figo fare un video in cui provo tutti questi cibi e queste cose stranissime poi ho visto che tanti ragazzi, ragazze americani ce l'hanno fatto quindi mi sono detto ok facciamelo, you can do it Nicole, you can do it e quindi eccomi qua, oggi abbiamo diversi snack appunto qui da assaggiare alcuni li prepareremo assieme quindi direi di iniziare subito via il dente, via il dolore togliamoci il pensiero iniziamo subito con non lo so però vedo che c'è praticamente il disegnino di un WC e quindi credo proprio che noi andremo a preparare il contenuto di questo WC e poi lo assaggeremo assieme quindi questo è un kit dalle dubbie e istruzioni tipo non si capisce niente di tutto quello che c'è scritto sul retro ma forse con le immagini riesco a capire come fare questa è appunto la nostra scatola non si capisce niente qui le istruzioni non si capisce niente quindi apriamo e vediamo di che cosa si tratta l'unico dubbio che mi viene è se riuscirò a mangiare questa roba assurda e qui ci sono adesivi poi questo pacchetto plasticoso che naturalmente andrà a formare il nostro fantastico gabinetto e poi qui c'è un glitter e poi qui ci sono queste due bustine che sono molto carine a vedersi quindi vediamo che cosa ne viene fuori dovrebbe essere una caramella almeno credo come vedete sto cercando di montare il nostro bagno adesso suppongo che va ad andare qua la tavoletta devo dire che la cosa diventa sempre meno invitante cerco di capire dall'altra parte che cosa devo fare allora devo prima inserire il contenuto della bustina blu nel water ora non ho ben capito se devo prima aggiungerci dell'acqua o prima la seconda bustina io non riesco a capirlo ma faremo così aggiungeremo la seconda bustina anzi prima secondo me potremmo andare a decorare il nostro bici perché no voglio dire quindi andiamo ad aggiungerci gli adesivi ecco direi che ci siamo abbiamo messo gli occhi al nostro bici il coso qua come si chiama e poi anche una piantina sulla vaschetta ora vado ad aggiungere la seconda bustina nella vaschetta qua io sto facendo roba completamente a caso perché non ho la minima idea cioè se sto seguendo le istruzioni in maniera decente oppure se mi sto inventando tutto quindi questo è quello che mi sembra di capire da questo disegno andiamo ad aggiungere un po' d'acqua l'acqua sta scendendo dovrei mescolare forse con questa cannuccia effettivamente si sta creando una schiuma frizzantosa oddio mio e il tutto sta fuoriuscendo dal bordo benissimo più o meno ci siamo e adesso andiamo ad assaggiare questa cosa molto molto invitante profuma di tipo di avete presente quelle gomme girate tutte su se stesse che formavano tipo una girella sta di gomma tipo di big bubble assaggiamo questo aiuto sta fuoriuscendo tutto è tipo frizzantoso ma sa di caramella confermo sa di caramella di big bubble mista a limone frizzantoso tipo coca cola ma non proprio tipo una coca cola a limone che però sa di big bubble se rendo l'idea comunque il fattore schifo perché lo stai bevendo da un water diciamo che non aiuta quindi io non so perché i giapponesi facciano ste cose come schifosità diamo un voto alla schifosità di questo prodotto io direi 6 non fa schifissimo non è buono quindi un 6 un positivo nella scala della schifosità poi il secondo prodotto è questo questo è l'unico prodotto americano che noi assaggeremo oggi il brand si chiama Archie McAfee e sono delle mentine alla pancetta al bacon io vi dico che già così puzzano da morire è tremendo puzzano avete presente il cane bagnato cioè ecco puzzano di cane bagnato è la cosa migliore che riesco a fare per spiegare andiamo ad annusare il prodotto in sé perché mi sembra giusto almeno datemi questa possibilità prima di mangiarlo almeno l'annuso così mi preparo psicologicamente mamma terribile in santo cielo ne assaggiamo una ne assaggiamo due ne assaggiamo tre così tanto per perché mi voglio male oggi allora si sente di più la menta adesso la menta la sento provo a masticarle adesso sento il bacon terribile sono veramente di bacon non riesco a mettere assieme una mentina con il bacon ma questo è esattamente quello che dicono esattamente quello che c'è scritto qui cioè sono delle mentine al sapore di bacon è vero almeno questo è vero non è una pubblicità ingannevole è vero solo che è la cosa più schifosa che io abbia mai assaggiato nella mia vita un voto sull'indice di schifosità se quella caramella era 6 queste sono minimo 8,5 minimo 8,5 tra uno snack e l'altro sorseggiamo un po' di acqua così ci togliamo questo sapore schifoso purtroppo non aiuta mi è entrato nell'anima praticamente bene adesso io andrei a provare queste si voi mi direte questo è il logo KitKat lo conosciamo tutti ci sono al latte ci sono al cioccolato bianco e poi non so se c'è ancora qualche gusto queste non sono normali KitKat queste sono KitKat che arrivano dal Giappone sono anche molto difficili da provare voilà e sono al sapore di panino ai fagioli non sto scherzando sono devono essere tremendi e io ho paola di assaggiarli perché io cioè detesto i fagioli e detesto ancora di più un panino ai fagioli mai mangiato in vita mia evidentemente i giapponesi piacciono così tanto i panini ai fagioli rossi che avevano bisogno di un KitKat con questo sapore perché voglio dire tu ti trovi sul lavoro non hai tempo di prepararti un panino ai fagioli rossi né che puoi tenerti la voglia voglio dire quindi devi avere un KitKat con sapore al panino ai fagioli rossi questi sono gli snack all'interno c'è scritto anche tutto in giapponese non si capisce niente hanno anche un Facebook Twitter e canale YouTube se volete andare ad insultarli per i prodotti che producono ma io direi di assaggiarne subito uno non si aprono devi avere veramente molta intenzione di mangiarteli perché ah ecco che ci sono riuscita allora il profumo è di KitKat sembrano buoni devo dire mi aspettavo una cosa terribile invece il sapore cioè il profumo non è niente male allora la parte esterna è buona il solito KitKat con il solito biscotto il mio problema arriva quando arriva la parte interna che sa di non so se sono fagioli rossi sa tipo di vomito non lo so cioè è una cosa terribile non sono fagioli secondo me o perlomeno non ho mai mangiato i fagioli rossi ma non credo facciano cose schifo il profumo continua a essere convincente il sapore no il fatto che il cioccolato KitKat all'esterno sia comestibile sia il comunissimo cioccolato KitKat aiuta devo dire la verità altrimenti sarebbe stato molto molto peggio però si sente effettivamente un sapore stranissimo che non so se sia esattamente il sapore di panino e fagioli rossi però è un sapore molto strano e per niente gradevole diamogli un voto all'indice di schifosità quindi 10 è il massimo della schifezza 0 è buonissimo io direi che questo come indice di schifosità si merita un bel 7 e mezzo poi abbiamo un'altra chicca fantastica oggi cioè il butter rice candy queste sono delle caramelle giapponesi che arrivano dal giappone ma va che per spiccace sono delle caramelle al riso fate con il riso il sapore di riso non ho ben capito la particolarità di queste caramelle è che si possono mangiare con l'involucro cioè si lo sono impazzita ve lo giuro ma si può mangiare l'involucro non solo la caramella perché quanto sembra spero di aver capito bene se non mi mangio plastica quanto sembra questa non è plastica ma è tipo non so che cosa però è commestibile quindi proviamo e vediamo sa a tutti gli effetti di plastica e qui c'è scritto effettivamente che ogni caramella ha un un involucro attorno che è assolutamente commestibile e che si scioglie in bocca quindi io adesso andrò ad infilarmi in bocca non ci posso credere la caramella con tutto l'involucro che vi garantisco sembra proprio plastica quindi c'è sta cosa vi giuro che non si scioglie mi sono appena documentata su internet e era plastica quindi io stavo cercando di mangiarmi la caramella con tutto l'involucro di plastica ma si c'è il trucco perché praticamente vanno aperte quindi questa va aperta e a tutti gli effetti è plastica ma la caramella ha un altro involucro di plastica che spero voi riusciate a vedere che invece può essere mangiato perché è a tutti gli effetti commessibile mentre invece il primo involucro era soltanto plastica io mi sto sentendo molto molto cretina quindi andiamo ad assaggiare questo cioè sì in effetti questo sembra plastica a vedersi però è vero che si scioglie in bocca è tipo avete presente quelle mentine fatte a foglietti che vendono vendevano nei tabacchini sono molto simili però non hanno il sapore di menta cioè sempre la stessa cosa però non sa di menta fa un po' schifo assaggiamo le restante parte dell'involucro si si scioglie in bocca ma non ha sapore fa abbastanza schifo arrivati alla parte interna si arriva ad un sapore quasi tollerabile devo dire che all'interno non è male però devo caramella al limone sono ancora stranita dal fatto dell'involucro ma non è male se devo dare un indice di schifosità un voto beh l'involucro fa abbastanza schifo però la caramella non è male quindi complessivamente direi un 5 e mezzo continuiamo con un altro snack per questo devo darvi non posso farvi prendere un colpo naturalmente quindi voglio farvi una minima introduzione perché questo snack dovete sapere è uno snack asiatico non sono ben riuscita a capire la provenienza forse nessuno vuole prendersi la responsabilità di quello che vende non sto scherzando però effettivamente non ho ben capito da dove arriva tipo dall'asia ma non si sa da quale paese in particolare comunque questo è uno snack con all'interno un animale morto e bene stilo dico così però è vero e si tratta in particolare di uno scorpione devo dirvi che c'era una bellissima scelta perché poi c'erano altri insetti ma ho pensato che lo scorpione essendo io del segno dello scorpione fosse più appropriato mentre il lecca lecca dovrebbe avere il sapore di banana mista a qualcos'altro di dubbia provenienza a parte che vi giuro che io sono terrorizzata che si muova davvero sa di nulla forse sa un po' di banana più che di banana sa delle robe ha il sapore di banana avete presente tipo quel gelato a forma di banana che vendevano non so se lo vengono ancora o le pastine della panetteria quelle a forma di bananetta ecco questo è l'esatto sapore di questo di questo lecca lecca vuol dire che non è male anche se un lecca lecca alla banana non è esattamente tra i miei top gusti preferiti però non è poi così tanto male il problema è che quanto sei disposto a mangiartelo prima di arrivare a mangiarti anche lo scorpione questo è un buon problema ammetti che poi ti mangi mezza zampa dello scorpione e non te ne rendi conto non sarebbe tanto carino e poi arriviamo all'ultimo snack di oggi tatara tatara anche questo un kitkat naturalmente anche questo arriva dal giappone ma questo non è ma questo non è un kitkat normale perché è al sapore di tè verde c'è il disegno di un tè che il tè verde giapponese non è esattamente il tè verde che conosciamo noi attenzione attenzione l'ho assaggiato e questi sono i kitkat raffigurati che sono naturalmente verdi mi sono dimenticata di dare un voto all'indice di schifezza di questo prodotto allora solo per il fatto allora il sapore non è male però solo per il fatto che all'interno c'è un animale morto io gli do 9 mi dispiace ma c'è terribile terribile gli ho dato qualche leccata perché sapevo di non arrivare allo scorpione nel momento in cui mi sembra anche lontanamente di arrivare a consumarlo a tal punto da arrivare all'animale muoio tipo mi viene un infarto e resto di secca procediamo adesso con il nostro kitkat al sapore di cè ecco il packaging è tutto verde naturalmente e poi sotto c'è scritto tutto in giapponese non capisco niente andiamo a scattarlo anche qui devo dire che il sapore cioè il profumo non è affatto male sembra un po' il kitkat bianco è un po' strano come profumo c'è qualcosa che non mi quadra però non sembra così male è molto 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 strano però vi devo dire che non è poi così male forse perché ormai mi sono abituata all'erroa più schifosa del mondo e quindi questa mi sembra commestibile ecco che arriva la cosa strana è buono non è male ma quando lo finisci ti rimane in bocca un retro gusto amarognolo stranissimo tipo portaceno il che cioè non so se continuare a mangiarlo oppure no continuare quando lo mangi non è affatto malaccio il problema è quando finisci di mangiarlo sta veramente di fondo di tè di tipo amaro invece di schifosità io gli darei 5 perché veramente sono la cosa più commestibile di tutte più o meno quelle che ho assaggiato quindi questi erano gli snack pazzi che abbiamo assaggiato oggi che ho assaggiato oggi naturalmente non so se mi sentirei di consigliarveli vedete un po' voi a vostro rischio e pericolo se capitate in Giappone se li trovate qua se capitate negli Stati Uniti vedete voi io vi ho avvisato fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video vi mando un bacio grandissimo e vado a sciacquarmi la bocca e a lavarmi 27 volte ciao ciao Grazie a tutti.